Santa Messa è preseduta da Papa Francesco questa domenica in Piazza San Pietro per la canonizzazione di quattro nuovi santi, cioè incompatibilità tra ambizioni, arrivismi e sequela di Cristo, ha detto il Papa nella sua omelia. È il tema del servizio e la via dell'umiltà e della croce indicate e vissuta da Gesù a dominare le letture di questa domenica e la stessa omelia del Santo Padre al termine del rito di canonizzazione dei nuovi quattro santi. Sentiamo. Vincenzo Grossi, sacerdote fondatore dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, Maria dell'Immacolata Concezione, superiore a generale della Congregazione delle Sorelle della Compagnia della Croce e i coniugi Ludovico Martin e Maria Azelia Guerin. Sono loro i quattro nuovi santi canonizzati ieri durante la Santa Messa in Piazza San Pietro. Coloro che oggi sono stati proclamati santi hanno costantemente servito con umiltà e carità straordinarie i fratelli, imitando Gesù, ha detto il Papa, evidenziando che solo chi serve gli altri e non è accecato dalla brama di potere esercita la vera autorità nella Chiesa. Respingere dunque la tentazione di involer primeggiare e comandare sugli altri per mettersi al servizio degli altri con la virtù dell'umiltà ed è Gesù stesso che con il suo esempio si propone quale ideale a cui riferirsi. San Vincenzo Grossi, ricorda il Papa, fu un parroco attento ai bisogni della gente, soprattutto attento alle fragilità dei giovani. Santa Maria dell'Immacolata Concezione visse in prima persona con grande umiltà il servizio agli ultimi. I coniugi Ludovico Martin e Maria Guerin, prima volta che i due coniugi vengono contemporaneamente iscritti nell'albo dei Santi, per di più dopo che già una loro figlia ha avuto lo stesso privilegio, ovvero erano i genitori di Teresina di Lisò, hanno vissuto il loro servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente di fede e amore, dimostrando che la famiglia non è solo il luogo del conflitto o dei problemi, ma è anche un luogo dove si impara a comunicare, a riscoprire la bellezza del rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli, riuscendo a vivere prima di tutto il matrimonio come vocazione. Al termine della messa, poi, il Papa ha chiesto di pregare ancora una volta per la pace in Medio Oriente. Seguo con grande preoccupazione la situazione di forte tensione e di violenza che affligge la Terra Santa. In questo momento c'è bisogno di molto coraggio e molta forza d'animo per dire no all'odio e alla vendetta e compiere gesti di pace.